La prima condizione per una vera preghiera è la fede. La seconda condizione è che lo stesso Gesù ci insegna la perseveranza. Busa, busa, busa. Alla fine il Signore dà la grazia, ma non lo fa questo il Signore per farsi l'interessante. No, fa per il nostro bene, perché prendiamo le cose sul serio. Prendere sul serio la preghiera. E la terza cosa è il coraggio. Non voglio dire un'eresia, ma quasi come minacciando il Signore. Fede, perseveranza e coraggio. Il Signore non delude, si fa aspettare, prende il suo tempo, ma non delude. Fede, perseveranza e coraggio.